Gli agenti della squadra mobile di Enna, della Polizia Penitenziaria di Palermo ed Enna, con la collaborazione della Polizia Scientifica, delle squadre mobili di Catania, Siracusa e Catanzaro, del personale dei reparti Prevenzione e Crimine di Palermo e Catania e del Nucleo Investigativo Regionale di Catanzaro e Firenze, hanno dato esecuzione a 12 misure cautelari emesse dal GIP del Tribunale di Enna e dal GIP presso il Tribunale per i minorenni di Caltanissetta. I soggetti destinatari delle misure cautelari sono indagati per aver introdotto nella casa circondariale Luigi Bodenza di Enna sostanze stupefacenti e telefoni cellulari. A otto indagati, tra cui un soggetto minorenne all'epoca dei fatti, è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere. Due indagati sono stati invece ristretti ai domiciliari e uno è stato sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora, mentre all'unico indagato ancora minorenne è stata applicata la misura del collocamento in comunità.